Si parla di una svolta vera e condivisa per quanto riguarda la gestione del verde urbano e della riserva d'Annunziana di Pescara de Colibus. Noi abbiamo formulato una serie di richieste che abbiamo allegato agli atti e sono numerose. Innanzitutto il controllo urbanistico, perché vediamo che ci sono rischi, vediamo progetti strani che non potrebbero essere attuati in quella zona particolarmente protetta dal piano regolatore. Vogliamo che sia ricostituita la fascia naturalistica come prevede il piano regolatore della spiaggia per ricostituire la fascia naturalistica dove Giglio, il cosiddetto d'Annunziano, possa tornare a rifiorire. Vogliamo che sia una vera politica per il verde e soprattutto che venga attuato il regolamento per il verde pubblico del Comune di Pescara. La pineta è una riserva naturale. Che significa riserva naturale? Significa che ci sono dei valori non più presenti altrove, di specie botaniche, di ecosistemi, di tale importanza anche per le generazioni future da essere meritevoli di conservazione. Lo strumento fondamentale della conservazione è il piano di assetto naturalistico. Questo piano disciplina dove la gente può andare, portare i bambini, divertirsi, quindi la fruizione, chiaramente compatibile, delle aree cuscinetto e le zone da tutelare dove è possibile ammirare delle stupende essenze vegetali non più presenti altrove. In assenza di questo piano la gente che va, calpesta dovunque, estirpa dovunque, portano animali che inconsapevolmente fanno danni e soprattutto i fondi che vengono dalla regione destinati alle riserve, in assenza di una pianificazione, di un'idea appunto del piano, finiscono sempre per interventi molto discutibili e talvolta addirittura distruttivi. Praticamente il comune, intendendo per comune l'istituzione, non approva un piano che doveva essere approvato nel 2001, quindi 16 anni fa. Io sono stato il coordinatore di uno degli ultimi piani, che è stato approvato in giunta come presalato nel 2000, non si riesce a capire per quale motivo, se per incapacità, se per pressione, interessi, non si riesce ad approvare questo piano. Nel frattempo la Pineta sta in uno stato di degrado incredibile.